Scende ancora l'RT nazionale che arriva a 0,72 rispetto allo 0,78 della settimana scorsa. In diminuzione anche l'incidenza, nel periodo di riferimento 21-27 maggio 2021, quello considerato nei parametri decisionali, è di 47. Una settimana fa l'incidenza invece era a 66. Sono questi, secondo quanto si apprende, i dati sull'andamento del coronavirus in Italia, all'esame della cabina di regia per il monitoraggio che sarà presentato oggi. Questa settimana, secondo quanto riportato nella bozza del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso secondo il decreto del 30 aprile 2020. Tutte hanno un RT medio inferiore a 1 e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1. Continua a migliorare la situazione dei ricoveri dei malati di Covid negli ospedali. Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Crollo anche per i posti riservati ai ricoveri, a confermare il 30 in basso di queste settimane. E con i dati in costante miglioramento, il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, apre anche alle discoteche, chiedendo di valutare i protocolli per l'eventuale ripartenza e la possibilità di somministrare il vaccino ai più giovani all'interno dei locali. Già nei giorni scorsi era stato fatto pervenire un protocollo che prevedeva il green pass vaccinale per l'entrata, l'utilizzo di materiali monouso, la tracciabilità attraverso l'acquisto dei biglietti online e la sanificazione dei locali.